Ultimi ritocchi al ricco cartellone estivo della nuova Proloco preseduta da Aldo Severino, che con i suoi collaboratori ha fatto il punto prima dell'ufficializzazione degli eventi che si terranno in città nei prossimi mesi estivi. Ancora piccoli dettagli e poi la presentazione pubblica. Stiamo preparando un ricco cartellone, devo dire grazie a tutte le associazioni che stanno aderendo e hanno aderito a questa nostra iniziativa. Sarà un'estate veramente molto ricca di attrattiva sotto tutti i punti di vista. Stiamo abbracciando un po' tutti i settori, dalla musica, dall'arte, dalla cultura, dallo sport. Insomma, c'è veramente un grande fermento, una grande voglia di ripartire sotto il segno anche della pandemia che dobbiamo abbandonare, ma soprattutto anche della rinascita culturale della nostra collettività. Non solo eventi, ma anche la necessità di dare nuovo slancio, rivalutare il sistema paese, il territorio e i luoghi storici, dopo l'emergenza legata alla pandemia e anche ad una lunga stagione di stagnazione culturale. Oggi si vede nuova luce. All'interno del nostro grosso contenitore che stiamo realizzando c'è proprio una riscoperta del nostro territorio. Le visite guidate che sono il nostro fiore all'occhiello, che cercheranno di far ripercorrere quei luoghi, quelle storie che Angri non deve assolutamente dimenticare. Ma mi viene in mente anche la cultura attraverso la presentazione di libri importanti, che finalmente daranno un suggello a quello che la Proloco è sul territorio, quello di diffondere l'arte, la cultura, la tradizione e la storia di un paese.